Sindacati ed organi di rappresentanza della dirigenza sanitaria stanno per organizzare una conferenza stampa per fare il punto sulla sanità regionale ormai arrivata al limite, sotto accusa. Sarà ammessa la gestione del commissario ad acta Massimo Scura? Ci sarà sicuramente. Il segretario regionale della NAO Assomed, il sindacato dei medici Filippo Maria Larussa, che annuncia una durissima pressa di posizione nei confronti dell'ingegnere dipengendo nei varie sfumature. Scura mentitore, da quando è arrivato, contrariamente a quanto da lui affermato in audizione al Senato, le relazioni sindacali si sono fermate ad un primo saluto e al suo progetto di DCA contro l'imboscamento. Un provvedimento nel quale era contenuto un passaggio poi arenatosi, grazie alla ferma opposizione dei sindacati medici, per cui punto 10 sanitari, temporaneamenti inidoni o malati per più di 10 giorni nel periodo estivo o di 3 mesi nell'arco solare non avrebbero potuto assumere incarichi di alta specializzazione o di direttore di struttura semplice o complessa. In pratica un'inaccettabile ed incostituzionale discriminazione, mentre tace, sull'attribuzione pregressa di circa 250 di turni di guardia, come riportato da altro sindacato, pagati per importo di oltre 120 mila euro a medici pensionati dell'Aspi di Reggio o dispensati per inabilità. E poi la volta di scuro omissivo, dice al Senato, prosegue la russa, dei condizionamenti mafiosi presenti in alcune aziende in primis a Aspe di Reggio e non li denuncia, dice ancora che Urbani, ha percepito negli ultimi 5 mesi del mandato lo stipendio da subicommissario senza recarsi sul posto di lavoro, era a Roma, a fare anche il dirigente del Ministero della Salute e non lo denuncia, dice che i concorsi di primaria Catanzaro selezionano sempre gli ecchissifacenti funzioni interni come se fosse un reato ma non indica le eventuali irregolarità concorsuali denigrando senza motivo e competenza. Stimati professionisti, dice che al reggio personale viene retribuito nonostante sentenze penali passate in giudicato tacendo di analogo caso per medico dell'Aspi di Cosenza condannato in via definitiva per truffe falso ed indignizzato con 100.000 euro e primariato. L'altra immagine del commissario, indicata dal segretario della Nau, escura il legittimo, nomina DCA 4015, intuito, personale, il commercialista romano evangelista da 600 euro al giorno per la ricognizione debitoria dell'Aspi di Reggio, compito assegnata a lui al punto 15 del DPCM di nomina e tace dal parere del MEF che valuta l'incarico arbitrario ed ingiustificato. Dopodiché è il turno di scura, attento agli amici, basta pensare ad alcuni passaggi stranamente tollerati sul lato aziendale DCA 117 dell'Aspi di Cosenza, struttura semplice, prevenzione del glaucoma non prevista nel suo DCA 64 di riorganizzazione della rete ospedaliera ed in forto d'ora da Personam o al DCA 35 con la cooptazione e retribuzione senza autorizzazione regionale di autisti e componente della struttura o al DCA 46 per convenzione onerosa con Agenas a spese della Regione e dei contribuenti calabressi nei panni di Pantaleone. Infine la russa inquadra scura incollata alla poltrona a quasi 74 anni. Continua a percepire un doppio emolumento pensionato e commissario ad Acchita della Sanità. In tutta Italia i pensionati non sono remunerati per le funzioni aggiuntive come prevede la legge Madia.